Dopo il blackout causato dal maltempo di gennaio, l'Enel ha deciso di ammodernare le linee elettriche. I lavori che si stanno svolgendo però stanno procurando dei disagi e delle interruzioni anche ripetute di energia elettrica in alcune zone in particolare. Sì, in alcune zone in particolare dove sono le nuove linee. C'è questa interruzione che ormai si ripete 4-5 giorni alla settimana, dalla mattina fino al pomeriggio alle 5. Creandone un po' di problemi perché sono vecchi, sono bambini, chi sta a casa in genere, chi ha un'attività, chi si muove è fuori casa. Però chi rimane dentro casa in genere sono questi oggetti. Quali sono queste zone? Le zone sono appunto quegli oggetti di interesse dei nuovi tracciati delle linee elettriche. In modo particolare la Brozzi, San Mauro, queste zone qui sopra a Montorrio e altre zone sopra a Castelli. Voi cosa chiedete all'Enel? Una cosa molto semplice, viene fatta normalmente. Intanto sono interruzioni programmate, quindi si sa quando si deve intervenire. Infatti i cittadini vengono comunque avvertiti. Infatti vengono avvertiti con le cartelle, però siccome questa cosa non è spot, cioè durante la settimana, un giorno, c'è un lavoro su una linea, ma si ripete nei giorni. Gli ultimi giorni di settembre in particolare per tutti i giorni hanno avuto l'interruzione delle linee elettriche. Sì, sì, assolutamente. E qui noi riteniamo che sia opportuno fare una cosa molto semplice, mettere un generatore a mondo e a valle della tracciata dove si interviene, quindi garantire l'energia elettrica ai cittadini e soprattutto alle imprese. Non dimentichiamoci che ci sono delle imprese che non possono lavorare, perché nell'orario di lavoro degli operai dell'Enel corrisponde all'orario di lavoro delle imprese, quindi ci sono delle imprese che non possono lavorare perché chiaramente manca la corrente elettrica. Quindi, diciamo, basterebbe appunto, loro sono attrezzatissime, hanno dei camion con dei generatori che supportano anche decine e decine di miliardi di utenze, basterebbe mettere questi camion per garantire questo servizio che è di base, fondamentale.